Qualche giorno fa hanno annunciato una collaborazione, quelle di Yoives, tra Genshin Impact e una nota catena di ristoranti, ok? Di che cazzo stiamo parlando? Della collaborazione tra Genshin Impact e McDonald's, va bene? Ti faccio vedere questo grandioso tweet con il quale hanno annunciato tutto. Questa collaborazione è cominciata lo scorso 17 settembre e appunto è solamente in America e durerà fino al 29 di settembre. Se tu vai all'interno di un McDonald's appunto, basta che vai ad ordinare qualcosa, ti dovrebbero dare un codice per ottenere qualcosina all'interno del gioco, Prime, Mojave e tutto il resto. E poi ti dovrebbero dare anche altre cose, lianti, insomma delle carte, qualcosina del genere, va bene? Quindi insomma la classica collaborazione che abbiamo già visto, si è già appunto parlato di queste in tutte le salse. Ora quello che io ti voglio dire all'interno di questo video non riguarda assolutamente questa collaborazione. Quindi tu magari starei pensando, oh mio Dio scusa perché hai fatto un'introduzione parlandomi di McDonald's, di collaborazione? Mi fai vedere qua la signorina Beidou appunto che sta qui ad aspettare il cibo mentre noi stiamo parlando. In realtà il tutto è molto tematico, per quale motivo? Perché all'interno di questo video appunto io non ti parlo di questo, ma ti parlo di una cosa chiamata incoerenza, di una cosa chiamata narcisismo, di una cosa chiamata egoismo, oppure in generale di creator del cazzo. Come sempre del resto, sai che mi piace molto parlare dell'ignoranza o quantomeno delle scelte altrui. Ok? Perché con questa collaborazione hanno organizzato diversi party a tema in America, no? Dove c'erano alcuni creator abbastanza grandi, di Genshin Impact a livello internazionale, che andavano appunto all'interno di qualche ristorante, facevano qualche cosina piuttosto divertente, bla 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 bla. Il problema però è che come sempre, secondo te, cos'è più importante? Fare un party o quantomeno un qualcosa di divertente, dove magari, ok, ci puoi pure guadagnare, però il senso stesso di avere un'esperienza del genere è di divertirti e far divertire, ok? Beh, in realtà no, in realtà no, perché tu organizzi queste cose, meglio, non tanto le organizzi, ma partecipi a queste cose, quando c'è un bel tornaconto dietro, per quale motivo? Perché ogni creator che si rispetti, o quantomeno ogni creator che ha un bel po' di seguito, figurati, figurati, se va ad organizzare, se va a partecipare a qualcosa, se non c'è un minimo appunto di tornaconto, come è giusto che sia. E infatti ti faccio vedere questo tweet che ha scatenato un bel po' di critiche in questi ultimi giorni, in queste ultime ore, che sarebbe questo qua di Dish, questa è una creator appunto di Genshin e altri giochi di Oioverse, dove hanno organizzato questo LAN party all'interno di Los Angeles, appunto, per celebrare la collaborazione tra McDonald's e Genshin Impact, ok? Ora, se sei al di fuori di ogni tipo di contesto, tutto il resto immagino che non saprai perché la collaborazione tra McDonald's e Genshin Impact è stata altamente criticata sul web. Cioè, per quale motivo? Perché, giusto per darti un'idea, esiste una cosa chiamata Israele, esiste una cosa chiamata Palestina ed esiste una cosa chiamata guerra civile. Magari non sai cosa sono, mi dispiace per te, vatti a fare una ricerca su Google. Però, per dirle in termini molto brevi e riassuntivi, McDonald's si trova al centro delle critiche appunto da un bel po' di persone, perché va a supportare lo Stato di Israele, ok? E dato che le persone, quantomeno le aziende che supportano lo Stato di Israele, fanno parte di consorzi o quantomeno di programmi governativi, insomma, in questo caso degli Stati Uniti d'America, allora ovviamente le persone che sono pro-Palestina, sottoscritto, si lamentano del fatto che è una scelta alquanto immorale. Certo che è un pochino immorale, perché fin tanto che ci guadagni, allora fai appunto il post su Twitter, vai a dire determinate cose per cercare di avere un minimo appunto di, come ti posso dire, morale in più, e quindi non beccarti troppe critiche, però poi dall'altra parte, se il governo ti paga un bel po' di soldoni, allora continui appunto a mantenere i tuoi ristoranti aperti all'interno di Israele, e te ne freghi se dall'altra parte appunto del paese ci sono persone che vuoiono di fame o altro. Vedi, questa per farla molto breve è la critica verso McDonald's. Ora, te immagini applicare una cosa di questo tipo all'interno di Genshin Impact, cioè questo che cosa significa? Che se tu hai dei creator che in passato si sono fatti belli all'interno della community per supportare le persone palestinesi, o quantomeno appunto queste persone che sono all'interno di questa guerra civile, che insomma non se la stanno passando veramente molto bene da, non da adesso ma da tantissimi anni, allora poi non te ne puoi uscire organizzando un party del cazzo, dove che cosa accade? Vai letteralmente appunto a sfruttare questa collaborazione per fare buon viso a cattivo gioco. Cioè, te ti becchi i soldoni, ti becchi un minimo di pubblicità gratuita, però poi scusami, se da una parte avevi supportato le persone palestinesi, adesso che ti pagano non le supporti più. E quindi di questo parliamo all'interno appunto di questo video, perché si tratta di incoerenza. Chiara, semplice incoerenza, narcisismo, egoismo, come cazzo lo vuoi definire? Cioè, una volta che ti arrivano i soldoni, non guardi in faccia a niente e nessuno. Così si fa e così si deve fare. Se tu, utente, non l'hai capito, che i grandi creator ragionano per lo più tutti così, e mi dispiace che appunto molte persone su Twitter si sono svegliate la mattina e hanno capito questo solamente oggi, perché è sempre stato così. Quanti sono i creator che si vanno appunto a preoccupare di essere coerenti in quello che ti vanno a dire? Pochissimi. Perché tanto alle persone non interessa nulla dell'opinione appunto di un creator of stress. Gli interessa solamente che il creator fa il video divertente e quello che è, basta. Solo quello gli interessa. Quindi anche quando le persone hanno fatto notare appunto alla signorina Dish, che era un pochino incoerente da parte sua, andare a supportare McDonald's con questa collaborazione, il senso era che guarda, ma in realtà McDonald's ha fatto chiudere dei diversi ristoranti all'interno di Israele, all'interno di questo tweet, che tra l'altro ha ricevuto diverse note dalla comunità di Twitter. Te ne faccio vedere qua. Perché? Perché appunto i franchise, o quantomeno i ristoranti che ci sono all'interno di Israele, o quantomeno quelli di McDonald's, non sono stati rimossi, ma fanno parte dell'economia di questo stato. E quindi se sono lì, sovvenzionati dal governo americano, insomma tutto quello che vuoi, vuol dire che i soldi arrivano da qualcuno. Ok? Quindi insomma alla fine della fiera, tu che vai a giustificare questa collaborazione, questo party, ci fai ancora più una pessima figura, perché dici stronzate. Però ti ripeto, è importante questa tematica, conta veramente qualcosa? Ovviamente no. Ovviamente no. La coerenza non ha senso di esistere sul web. Chiunque ti dica il contrario è un emerito coglione, ovvero sottoscritto. Perché non conta niente. Tu puoi dire quello che vuoi. Perché tanto il web esiste nella sua bolla. Cioè questo che significa? Se io nella mia bolla ho il mio pubblico, dove vado a dire determinate cose, a me non me ne frega niente di che cosa sto dicendo. Perché tanto la mia bolla di pubblico prenderà in ogni caso qualsiasi cosa che io sto dicendo, mi supporterà con visualizzazioni, appunto mi piace, commenti e tutto il resto. Quindi appunto il senso di tutto ciò è che io non mi meraviglio più di queste cose. Però per qualcuno, pochissime persone in questo caso, che hanno notato questo su Twitter, oh mio Dio, è il dramma più importante che c'è. Quando ti ripeto, non serve parlare, non conta nulla, perché se tu vai a sopportare determinate persone che ti prendono per il culo ogni Cristo di Santo di Giorno con video del cazzo, opinioni del cazzo e contenuti che fanno cagare, allora permettimi, forse il problema non è del creator. Perché il creator è furbo che ti sta sfruttando. Se tu dai la visualizzazione a gente come Tecton che non è in grado di editare un video su YouTube o fare un contenuto che abbia un minimo di senso, chi è il coglione qua? Quello che ci fa i soldi? Lui o te che lo vai a vedere? Non lo so, dimmi tu, perché ti ripeto, il web esiste all'interno di una bolla. Ogni volta che tu esci fuori da questa bolla e ti rendi conto delle stronzate che ti vanno a dire creator XYZ, allora poi dirai cazzarola, come ho fatto a non notarlo. Ma finché sei all'interno della bolla, non te ne frega niente, perché ti guardi il contenuto, è carino, è bellino, tutto quello che vuoi, e va bene così. Il problema di queste bolle del web è che esistono siti web tipo Twitter, tipo appunto, che ne so, Facebook dei vecchi tempi, dove quando tu vai a dire qualcosa e ti aspetti di ricevere gli stessi commentini del cazzo che ricevi anche su YouTube, purtroppo questo non accade, perché in base ai siti web, in base ai social, ci sono persone diverse. Per fortuna su Twitter, non ti dico sempre, perché pure Twitter non l'età maio, però molte volte alcune persone dicono ma scusami, prima mi avevi detto X, perché adesso stai facendo Y, che è in netto contrasto con quello che stai facendo prima? Per quale motivo? Perché adesso ti stanno pagando, prima invece non ti pagavano e quindi adesso, capito, fai un pochino quello che ti fa più comodo. Però ho capito qual è il senso, intanto che tu rimani all'interno di questa bolla del web, non te ne frega niente, quindi piuttosto che andare a lamentarsi dei creator e tutto il resto, che sono il primo a farlo, assolutamente, però io almeno alle mie critiche cerco di dargli un minimo di contesto, cioè io non mi vado a vedere questi video di Dish, Tegton e chi più ne affine metta, alcuni canali li ho letteralmente silenziati, sia da YouTube che da Twitter, perché non mi interessa appunto partecipare a questo tipo di contenuti, discussioni e tutto il resto. Io stesso mi sono messo a fare video su Genshin, o quantomeno in generale video su YouTube, senza andare a vedere nulla della community internazionale e tutto il resto, perché sapevo e so ancora oggi che fanno contenuti di merda, però dato che alle persone non interessa andare oltre il video, sapere che cosa va a pensare una persona, perché fa determinate scelte, perché fa una cosa in un certo modo invece di farlo in un altro modo, sono cazzi vostri. Se tu supporti gente che fa questo genere di scelte, puoi non meravigliarti se dall'oggi al domani scopri che quella persona è appunto una pessima persona, perché va a fare i propri interessi, anche perché alla fine, giusto per precisare, certo che ognuno fa i propri interessi, se ti pagano per fare un contenuto, ben venga, assolutamente, però permettimi, non mi piace appunto vedere persone che hanno vagonate di soldi, che fanno appunto contenuti online da diversi anni, che poi si vanno ad aprire a sponsorizzazione del cazzo, o quantomeno che vanno a giustificare queste stesse sponsorizzazioni del cazzo con ipotesi, opinioni abbastanza idiote. Cioè, per dire, io potrei accettare una sponsorizzazione perché non guadagno una minchia su YouTube, quindi non è che appunto sto qua a giustificarmi nel dire o fare chissà cos'altro. Però, se dovessi guadagnare veramente tanti soldi, dovrei cercare di mantenere un minimo di coerenza in quello che vado a dire, in quello che vado a fare. Altrimenti, che cosa sto facendo? Non lo so. Probabilmente faccio il coglione esattamente come queste persone. Però, ti ripeto, è importante questo discorso? No. Perché queste persone continueranno ad esistere, a fare contenuti di merda, solo in base alla tua decisione. Se tu supporti queste persone, non meravigliarti se poi scopri che vanno a supportare idee del cazzo o altre cose. Perché siamo tutti bravi a dire pro-Palestina, tutto quello che vuoi. Però, alla fine della fiera, contano i fatti. Se tu supporti persone che fanno scelte di questo tipo, allora, evidentemente, non ti interessa batterti, appunto, per queste tematiche. Cioè, possiamo essere tutti pro-LGBTQ e tutto quello che vuoi. Però, se ti vai a vedere video di gente pelata che va a chiamare Froge e tutto il resto, insomma, parole molto particolari o, quantomeno, molto brutte le persone, io mi farei qualche cazzo di domanda. Io me la farei qualche domanda, eh. Quindi, la prossima volta, invece di lamentarti facendo tweet, andando a far notare a queste persone che non dovrebbero fare X, fai una scelta ancora migliore. Non guardare questi contenuti. Non perché quelli che faccio io sono migliori, eh. Non sto dicendo questo. Però, almeno, diamo un minimo di coerenza alle nostre scelte prima di andare a vantarci tutti quanti sul web nel dire no, guarda, io non farei mai questo. Io supporto X. Perché, se supporti queste persone, se queste persone hanno così tanto pubblico, un motivo ci sarà. Opinione assolutamente personale che se ne dica o meno la maggior parte delle aziende nasce per guadagnare e pensare che una guerra cambierà questo fatto è assolutamente idiota. Poi, se vogliamo parlare di coerenza sono d'accordo con te ma allo stesso tempo bisogna guardare anche all'altra faccia la medaglia. No, no, ma hai assolutamente ragione, Mattia. Cioè, io non è che me la sto qui a prendere più di tanto con McDonald's o altro per dire no, guarda, sono incoerenti e tutto il resto. Cioè, McDonald's è un'azienda privata e gli fa i suoi interessi. Il problema è che almeno io, io vada a vedere in modo diverso un'azienda privata da un creator appunto privato. Cioè, il creator è la singola persona. Non è un'azienda non è una moltitudine di persone che vanno a produrre un contenuto. È una persona. Poi magari ci sono editor però principalmente è una persona. Quindi, se io devo dare un giudizio non lo vado a dare all'azienda lo vado a dare alla singola persona che si fa portatore di determinati messaggi abbastanza incoerenti. Questo è il mio focus. Poi l'azienda facesse quello che cazzo che vuole. Alcune volte fanno scelte di merda altre volte no. Come gli gira. Ma non mi meraviglio l'azienda è un agglomerato di persone. È un agglomerato di persone che vogliono fare i propri interessi. Tutto qua. E quindi non posso stare lì a giudicarli perché sono persone che magari sono senza volto. Cioè, noi non li conosciamo. Mentre invece un creator tu lo conosci. Il creator online campa per le sue opinioni. E se sono incoerenti sorry te lo vado a dire. Infatti non sto criticando McDonald's per il fatto che abbia dei restauranti in Israele anzi sono assolutamente d'accordo con questo o perlomeno non me ne frega nulla dato che pretendere che tutte le aziende internazionali smettano di operare su un determinato paese solo perché c'è la guerra di mezzo è stupido. Almeno un secondo me. Però guarda anche su questo potremmo anche avere da ridire Mattia per quale motivo? Perché per esempio quando è scattata la guerra in Ucraina la maggior parte delle aziende è andata via dalla Russia per dire guarda noi non supportiamo questa guerra tutto quello che vuoi però in Russia ti faceva comodo appunto andartene lì perché comunque immagino che c'erano pure le sovvenzioni del governo e tutto il resto mentre invece in Israele ci rimani perché il governo ti dice guarda puoi operare quindi pure là sono scelte abbastanza problematiche perché qua siamo dalla parte degli americani tutto qua ma siccome gli dovesse supportare sì alla fine il senso è sempre quello Rulco cioè se tu sai che il governo X supporta lato YZ della guerra allora aziende che fanno parte di quello stato andranno a seguire questa scelta una scelta del cazzo assolutamente sì però la devi accettare o quantomeno devi cercare di capirla però ti ripeto fin tanto che si tratta di aziende è ok la singola persona permettimi la critica non ci si può fare niente se la gente segue i soldi nemmeno si giustifica perché si chiama vivere però le parole che dicono sono autentiche stronzate no secondo me l'only il discorso è un altro è che a molte persone piacerebbe essere dalla parte giusta cioè avere una morale intaccabile no quindi se tu dici guarda io faccio solo scelte giuste sono una persona stupenda tutti dovrebbero supportarmi amarmi tutto quello che vuoi sarebbe bello però se vuoi guadagnare non si fa così grazie a tutti Grazie a tutti.